Buongiorno ragazzi, questa settimana vediamo le caratteristiche principali di un'altra religione che è l'induismo. Il termine induismo è stato inventato verso la fine del XVIII secolo dai britannici quando colonizzarono l'India e lo utilizzarono per indicare la religione che veniva praticata già da molti secoli, ancora prima della nascita di Cristo, dagli indiani. La parola indiani ha origine dal fiume Indo. Una caratteristica dell'induismo è che non ha un fondatore e non va considerato come un'unica religione omogenea e compatta, ma piuttosto si può pensare a una famiglia composta da delle religioni diverse, tipica di alcuni territori dell'India, anche se poi ci sono delle caratteristiche. Induismo è una parola inventata verso la fine del XVIII secolo dai britannici quando colonizzarono l'India. La utilizzarono per indicare quella religione che veniva praticata già da molti secoli prima della nascita di Cristo dagli indiani. La parola indiani è sua volta collegata al fiume Indo. Una caratteristica dell'induismo è che non ha un fondatore e diciamo che non può essere considerata come un'unica religione omogenea e compatta, ma piuttosto come una famiglia composta da religioni diverse, tipiche di alcuni territori dell'India, anche se poi hanno comunque in comune dei principi fondamentali che ora vedremo in seguito in questo video. I testi considerati sacri dagli induisti sono scritti in sanscrito, che è una lingua che era in uso nell'antica India e che poi successivamente è conosciuta quasi solo dalle persone più istruite. I Veda sono tra i libri sacri dell'induismo e in sanscrito Veda significa conoscenza. Questo è il simbolo dell'induismo. La sillaba OM, che significa tutto, secondo le scritture è il primo suono pronunciato dal Dio Brahma durante la creazione. Gli induisti credono in molti dei, in particolare in uno spirito supremo che si manifesta in tre forme, il Brahma, il creatore, Shiva, il distruttore e Vishnu, il conservatore delle cose. Queste tre divinità credono in molti dei, in particolare in uno spirito supremo che si manifesta in tre forme, il Brahma, il creatore, Shiva, il distruttore, Vishnu, il conservatore delle cose. Queste tre divinità formano la sacra trimurti. Gli induisti credono in molti dei, in particolare in uno spirito supremo che si manifesta in tre forme, il Brahma, il creatore, Shiva, il distruttore, Vishnu, il conservatore delle cose. Queste tre divinità formano la sacra trimurti. Gli induisti credono nel karma e nella rincarnazione. Affermano che dopo la morte l'anima rivive in un altro corpo, una pianta, un animale o una persona, a seconda dei meriti e delle colpe della vita precedente. Il luogo di culto è il tempio, il luogo dedicato alla meditazione. Nelle case poi hanno un tempio domestico e offrono dei piccoli doni alle divinità, come ad esempio fiori, frutta, bastoncini di incenso. Inoltre il gange, il fiume, è considerato sacro ed è venerato come una divinità e i devoti sono soliti bagnarsi nelle sue acque. Eccoci ragazzi, come per le altre religioni cerchiamo di lasciare una traccia sul quaderno, come sempre o quello di religione o quello italiano va bene. E come facevamo in classe, ognuno di voi può scegliere di lasciare una traccia come meglio crede. Può semplicemente scrivere, può fare uno schema, può fare dei disegni, eccetera. Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi riguardo le feste, nel senso che le feste ce ne sono tantissime e seguono di solito l'alternarsi delle stagioni, i periodi della semina e del raccolto e quindi sono di solito caratteristiche legate alle caratteristiche geografiche e climatiche dell'India. Bene ragazzi, come per le altre religioni cerchiamo di lasciare una traccia sul quaderno. Può andare bene il quaderno di italiano o quello di religione e come facevamo in classe, ognuno di voi può scegliere in che modo lasciare questa traccia. Può farlo attraverso una scrittura, attraverso un testo, attraverso dei disegni, attraverso uno schema, come voi preferite. Ho dimenticato di dirvi rispetto alle feste che seguono un po' l'alternarsi delle stagioni, dei periodi della semina e del raccolto e quindi sono legate alle caratteristiche geografiche e climatiche dell'India. Ovviamente quello che vi ho raccontato sull'induismo in questo video sono le caratteristiche principali, ci sarebbero molte molte cose di più da dire su questa religione. Se qualcuno di voi è rimasto affascinato, vuole saperne di più, può sempre fare una piccola ricerca e poi magari ci possiamo confrontare insieme sui dubbi o le curiosità che avete trovato. Buon lavoro!